E' uno dei più prestigiosi festival cinematografici internazionali, ha una caratteristica, questo non è un festival del carter, questo non è un festival di illustri, questo da sempre è un festival che si qualifica per la forza e la qualità delle pellicole, dei film che ogni anno propone, non a caso da questo festival sono usciti grandi film che hanno avuto un straordinario successo, è uno dei pilastri della cinematografia italiana ed è uno degli eventi principali di questo torino che investe sempre più in cultura e che ha fatto della cultura un suo tratto di identità. Ma a lei di cosa le piace il cinema? Tante cose.